Ti chiederei prima un commento su questo skyline che vedi per la prima volta perché tu hai origini italiane, sei nato a Milano, ma nel nostro territorio non eri mai stato. È un paradiso, è molto molto bello, unico, come è l'Italia, che è conosciuta nel mondo come uno dei paesi più belli che ci sono. Quindi, come ti dicevo, sono sorpreso io che essendo nato a Milano non sono mai stato in questo paradiso, è veramente bello, fantastico. Poi la giornata non poteva essere meglio. Raccontaci un po' la tua storia, dicevamo prima tu hai origini italiane e poi hai fatto un grandissimo successo in America. Esatto, beh io sono nato imprenditore, sempre stato imprenditore sin dall'età di 18 anni e ho sempre creato opportunità. Prima ero in Costa Azzurra, a Monte Carlo, ho vissuto diversi anni, circa 13-14 anni e poi sono sposato con un'americana a Monte Carlo e ho cominciato ad andare negli Stati Uniti, tra l'altro poi io ho anche studiato negli Stati Uniti quando ero più giovane, il liceo, ho fatto il liceo e poi per una serie, per ragioni familiari, non ho potuto finire gli studi. E comunque sono con questo matrimonio a Monte Carlo con un'americana, facciamo avanti e indietro. Nel 1997 ho deciso di stabilirmi definitivamente negli Stati Uniti, anche se logicamente ero molto familiare con gli United States, con gli Stati Uniti. E niente, poi da lì ho fatto investimenti, io ho investito molto in real estate, casino, gaming, gioco, tecnologia finanziaria, fintech. Quindi sono molto diversificato, però diversificato sempre con un obiettivo. Quindi mi interessano le industrie che credo siano in una fase ancora molto interessante e quindi mi piace speculare per creare un valore molto grande, molto importante. E che resti? Mi piace creare società che restino anche dopo il mio momento, nel senso anche quando sarò morto. Mi piace creare delle cose che restino e che facciano una differenza nel mondo. Quindi tecnologia sicuramente, secondo me, tecnologia, lo sappiamo tutti, è il presente e il futuro. Il migliore investimento che c'è, logicamente più le cose sono facili, più non rendono niente. A me piacciono le cose ambiziosi e un po' difficili, perché se sono troppo facili, vi assicuro che non si guadagna niente. Quindi chi non rischia non rosica, questo è un detto internazionale. Tanti settori, qual è quello che ti piace più, che ti affascina, che ti stimola maggiormente? In principale due settori, praticamente tecnologia di finanziamento, perché ho creato e sto lanciando un metodo che praticamente cambierà il modo come uno fa qualsiasi transazione finanziaria. Cambierà la necessità di avere banche, anzi non ce ne sarà più bisogno. È molto futuristico, molto ambizioso. Cioè le banche ce ne saranno sempre, che sia ben chiaro, però il sistema cambierà completamente. Vedo questa opportunità di fare qualcosa molto utile a tutti, a chiunque vende un prodotto, a chiunque compra un prodotto, a chiunque ha bisogno di un finanziamento. Quindi facilizzare al massimo, che poi è l'obiettivo della tecnologia, è di facilizzare la vita a tutti e creare opportunità per tutti. Quindi io mi considero una persona, un pioneer, un pioniere, e mi piace prendere i rischi calcolati, però per creare veramente un valore molto importante, quello che stiamo facendo. L'altra cosa che logicamente mi affascina è il mondo dell'intrattenimento, però intrattenimento nel settore gioco, casino e hospitality, come si dice, hotel. Essendo vissuto negli Stati Uniti, a Las Vegas, ho investito in casino in passato. Io non sono riuscito a prendere il controllo, per ragioni politiche, non voglio dire politiche, perché non ha niente a che fare con la politica, però per ragioni, essendo io ero nuovo, ero giovane, 30 anni, 31 anni, molto ambizioso, un pochino arrogante magari, ho tentato di fare una scalata in un mondo molto controllato da dei grandi billionaires, quindi ho imparato le mie lezioni, però non ho mai, io non mi fermo mai, quindi diciamo che ho imparato molte cose e mi sto preparando a rientrare, quindi quando rientrerò penso che ci sarà qualcosa di molto eclatante. Un'altra cosa interessante è Hollywood, no? Un'altra tua grande passione. Esatto. Beh, Hollywood è incominciata dopo la mia tentata OPA, OPA, no? della Riviera Hotel, della Riviera Holdings, che era una società pubblica in borsa a New York, che era proprietaria di due casino, uno a Las Vegas, sullo Strip, molto grande, ma molto vecchio, quindi c'era una grossa opportunità di rilancio e comprarlo veramente a molto poco. All'epoca, e poi scusate, questo casino, questa società aveva anche un altro casino in Black Hawk, Colorado. Quando io sono entrato e ho visto questa società e ho cominciato ad avere l'interesse, la società aveva una valutazione di borsa di 16 milioni di dollari, mi ricordo, che credevo che fosse pazzesca, considerando gli assets, cioè i valori, i terreni che avevano, le operative che avevano, ma c'era tutta una situazione finanziaria che praticamente creava, che penalizzava le azioni della società in borsa. E poi c'era un management che era molto, come si dire, non molto visionario, che era molto più interessato a farsi dei grandi salari che invece creare e fare. Io ho visto l'opportunità, valore di borsa, 16 milioni, ho incominciato a trattare l'acquisto e logicamente sono finito sui giornali in America dappertutto, anche in Italia. Le azioni di quella società sono andate da 2 dollari e 60 a 38 dollari ad azione e dei split si sono divise, 3 per ogni azione originale, quindi devi fare 38 moltiplicato per 3. Quindi diciamo che ho avuto sempre ragione sulle cose che faccio, però non sono riuscito a prendere il controllo, perché lunga storia mi hanno praticamente osteggiato. E adesso, logicamente, in quel periodo lì, ho imparato, voglio dire, voglio rientrare, però voglio rientrare con un prodotto che sia veramente unico. Quindi ho creato un carattere, ho creato un carattere molto unico, con base a Las Vegas, e lo chiamiamo Michael Tirano, Tirano all'italiano, Michael Tirano, e che praticamente costruisce a Las Vegas il Casinò dei Sette Peccati, che poi è il casino che intendo creare io eventualmente. Allora ho ingaggiato dei top best-selling authors, autori, ci siamo messi, gli ho spiegato un po' tutto, abbiamo pubblicato una serie di libri che si chiama The Tyrant, avendo già in testa di fare i film, di lanciare poi una franchise a livello mondiale, prendendo, logicamente, dei rischi, perché non ci sono garanzie, e niente, nella vita c'è solo la morte garantita. Però, specialmente a Hollywood, già dal 2010 abbiamo incominciato a sviluppare il film, i film hanno avuto buon successo negli Stati Uniti, li abbiamo dati in licenza qui in Italia alla Mondadori, però aspettano di vedere il film, di che ci sia il film per poi lanciarlo di più nel mercato, quindi io non ho problemi con quello perché il film arriverà sicuro. Il fatto sta che il film deve essere di successo, io punto e noi puntiamo che sia un blockbuster, quindi è un nuovo tipo di franchise, un nuovo tipo di supereroe, e quello è nato perché eventualmente questo signore, Michael Tiranno, di origine italiana, però americano, ha i sette peccati, il casino dei sette peccati, che sarà fantastico, cioè una cosa pazzesca che poi vedrete nel film, lo duplicheremo in vita, avrò tutti i diritti per farlo e a quel punto lì avrò un tema e un valore che sarà molto assoluto. È un programma un po' unconventional, come si dice, non è normale, ma è per quello che bisogna farlo, perché se fosse normale lo ha già fatto, cioè non hanno bisogno di me per fare un casino a Las Vegas, ci sono gente che è lì da 40 anni, però se adesso allora aspettiamo il film, se il film diventa una franchise, incominciamo a avere non solo quell'opportunità, ma poter fare anche una linea di prodotti di abbigliamento, ci sono slot machines, c'è molte, molte cose che, perché ritengo tutti i diritti, finanziando io con lo studio, tramite la mia società logicamente, la produzione che è di circa 80 milioni di dollari, quindi una produzione molto più importante che la tipica produzione europea. Ti chiedo questo, una domanda adesso di tipo politico, cos'è cambiato, se è cambiato qualcosa con Trump in questo anno, e come vedi anche a livello politico l'Italia dalla tua America? Io sono uno che crede, a me l'America è una superpotenza che è molto amica dell'Italia, molto alleata, e avevamo bisogno, a mio avviso, di un presidente americano che abbia coraggio per creare pace nel mondo, perché purtroppo abbiamo visto con l'amministrazione di prima, di Obama, le idee di ritirarsi, purtroppo i problemi esistono, quindi scappare, il mondo è piccolo, e secondo me purtroppo sono dei problemi che dobbiamo tutti affrontare nel Medio Oriente, non possiamo ritirarci e pensare che vanno via, come un po' i problemi di criminalità, abbiamo le prigioni perché bisogna, non possiamo dire, ah tanto escono e ci sarà sempre criminalità, abbiamo perché dobbiamo almeno diminuire i rischi e mantenere la pace e l'ordine. Nel mondo è uguale, bisogna avere un poliziotto perché se no avremo guerre dappertutto, è stato provato, quindi io se tu mi chiedi cosa penso di Donald Trump, a livello internazionale sta facendo delle cose che bisogna fare, ISIS ha dato ordine ai generali, come sappiamo tutti, come si può ISIS dire è difficile distruggere ISIS quando l'America spende 700 miliardi di dollari in armamenti, come si può dire sta roba e crederci? Quindi la realtà è che ci sono delle cose che non vengono dette, però bisogna essere realisti e bisogna sterminare queste cose che non vanno bene, perché i massacri, i genocidi nel 2018 non vanno, bisogna avere un poliziotto che... Quindi europei sempre dietro all'America, tu mi chiedi cosa ne penso, sono molto contento di Trump. Per quanto riguarda il mercato americano, Trump ha messo in piedi delle grosse, come si dice, la burocrazia sta tentando di eliminare burocrazia, che è un problema purtroppo ad altri, se ce n'è troppa, un po' di burocrazia bisogna averla logicamente, se no non siamo nel far west, però se ce n'è troppa non crea lavoro, perché il lavoro è creato dalle imprese, lo Stato sia in Italia che in America ingaggia, ma la maggior parte del lavoro è creato da imprese, quindi se si penalizzano le imprese si penalizza il lavoro, 2 più 2 fa 4, non c'è altro modo. Ti chiedo questo, visto che sei un grande imprenditore, perché i grandi imprenditori stranieri fanno fatica ad investire in Italia, come si può invertire questa tendenza? Allora, come dicevo, vedi America adesso, guardiamo un attimino Trump cosa sta facendo in America, togliere la burocrazia, diminuisce le tasse, le tasse bisogna pagarle, siamo tutti d'accordo, però l'unico modo, in mio parere, di strutturare il debito pubblico che abbiamo tutti, sia l'America che l'Italia, è crescere l'economia, dare più opportunità alle persone di spendere, di tenersi i soldi, di investirli, di prendere rischio. Bisognerebbe promuovere il rischio all'impresa e l'intraprendenza dell'essere umano, perché indirettamente si creano tanti posti di lavoro, no? C'è gente che vuole prendere rischi e poi c'è gente che non vuole prendere rischi, va bene tutte e due, però si lavora sempre per uno che ha più soldi di te, è vero o no? Cioè io gli affari li faccio con gente probabilmente anche più ricca di me, non faccio gli affari con la gente più povera. Se uno prende un lavoro vai a lavorare da uno che ha più disponibilità, quindi se penalizzi quella persona poi arriva. Quindi tu mi dici come si fa. Il problema dell'Europa, secondo me, e molti imprenditori come me, capacissimi, sono tutti in America, dalla Cina, dall'Europa, dalla Francia, dall'Italia, vanno tutti in America, perché c'è un environment, come si dice environment, un ecosistema che promuove investimenti, che promuove rischio, che promuove intraprendenza, imprenditorialità. E se tu continui a fare, se uno, se in un paese purtroppo, se uno compra una Ferrari, comincia ad arrivare al fisco, chiede 20 domande, tutte queste robe, insomma, è un po' anti, perché non capiscono che la Ferrari è stata costruita, quella Ferrari che è stata comprata da Riccone, è stata costruita da gente che ci ha lavorato. Sono molto contento di essere qui oggi. Grazie.